Rielection Day per Giulio Evaldi, nostro microfono di Marco Cristian, presidente del CEP. Contento della rielezione di Giulio Evaldi? Sì, sono contentissimo. Lui è un'ottima persona, sempre sta ad aiutare società in difficoltà tipo la nostra. Ci è venuto sempre incontro in questi quattro anni, è stato il minimo da parte nostra a rievotarlo. Perfetto, il CEP in questo periodo cosa sta facendo? Stiamo facendo ben poco, stiamo andando avanti con il CPM, i ragazzi sono fermi, non riusciamo a farli allenare. Qui forse viene fuori la sperequazione di chi ha un campo di proprietà e di chi non ce l'ha. Noi veramente abbiamo un campetto a cinque, però con troppe leggi non riusciamo a affrontare tutto quello che dobbiamo fare. Per troppe spese, troppe cose burocratiche, come succederanno. Il neopresidente Evaldi ha detto che le casse sono piene, quindi ci sarà da farci aiutare. Speriamo bene, abbiamo fatto la domanda e speriamo bene che ci aiutino questi fondi che danno alla società. Speriamo di rientrarci anche noi, ora noi la domanda l'abbiamo fatta, speriamo bene. Tramite il dottore Evaldi e il dottore Anzalone ci hanno detto che ci faranno il campo sportivo a cinque e spero che inizieranno nel breve periodo. Ok, grazie, da Corsi Martini è tutto, alla prossima.